La politica ha deluso, hanno deluso anche altre istituzioni come quelle bancarie e spesso erano d'accordo le istituzioni bancarie e quelle politiche e amministrative. Noi chiediamo di rompere questo circolo vizioso, di far partecipare i cittadini, di chiedere loro un consenso e dare loro la possibilità di informarsi perché poi il Comune di Arezzo prende una decisione ovvia per noi, insomma se i cittadini di Arezzo sono stati truffati, raggirati o presi in giro con gravi perdite economiche che è il caso che il Comune, che è l'istituzione più vicina a loro dovrebbe esserlo, si muova in questa direzione. E l'onorevole Pippo Civati, antirenziano di primo ordine in terra retina per presentare la delibera di iniziativa popolare per richiedere al Comune di Arezzo di costituirsi parte civile negli eventuali procedimenti penali a carico degli ex vertici della Popolare dell'Etruria a lanciare un guanto di sfida al Premier Renzi. Una tappa non casuale quindi per il leader del Comitato possibile con riferimenti nemmeno troppo velati al cosiddetto asse Arezzo-Firenze-Roma. Si faccia mobilitazione per spiegare come stanno le cose, cosa sta facendo il Governo e cosa non sta facendo il Governo ai noi, il tempo che si è perduto da quando è scoppiato lo scandalo, le difficoltà di cantone, la mancanza di risorse, segnalo che decidere di votare un referendum il 17 di aprile senza accorparlo alle amministrative costa 300 milioni. Se lo dici ai cittadini di Arezzo, ai clienti di Banca Etruria, a quelli che sono stati fregati, forse capiscono il problema e l'entità anche della soluzione. Le amministrazioni locali devono solo prendere il coraggio di rappresentare i propri concittadini. Troppo spesso in questi anni abbiamo visto dei comuni che sono un po' in soggezione rispetto al Governo nazionale, al massimo in trattativa nelle leggi di stabilità. Io penso che il riscatto di questo Paese passi dalle comunità locali che si sono state a loro volta travolte, in alcuni casi magari erano conniventi, ma questo lo stabiliranno i processi e le verifiche che ci saranno. In altri casi chi ha doveva vigilare, penso alla Consob sui prodotti finanziari, penso a Banca Italia rispetto a certe scelte, penso alla classe politica. Quando si parla di conflitto di interessi si indica proprio una situazione in cui c'è molta confusione, in cui esiste una lobby di fatto. E proprio nella città d'origine del Ministro delle Riforme non poteva mancare la stoccata a Maria Elena Boschi. Un problema c'è, vedo Boschi oggi scatenata anche sulla discussione sulle banche di credito cooperativo, forse potrebbe occuparsi d'altro, ha già fatto una pessima riforma costituzionale, scelga un'altra disciplina perché altrimenti diventa imbarazzante per lei. Intanto a breve prenderà il via la raccolta firme necessarie per la presentazione della deribera, in tutto 300. In primo luogo chiediamo che questa raccolta firme sia suffragata da tantissimi aretini e poi presenteremo la nostra proposta in Consiglio Comunale che ha l'obbligo di prenderla in esame. La raccolta firme sarà fatta sicuramente il sabato al mercato e poi in tutta una serie di appuntamenti che andremo a comunicare successivamente.